Eccoci tornati in studio, Massimo De Luca, questo libro Sport in TV, analisi, racconti, curiosità anche per capire quanto siamo andati avanti in un certo senso, poi non so se è bene o male, ma ci sono molti episodi curiosi che sembrerebbero impossibili, come il fatto una volta di non poter giocare la sera perché crea problemi di inverno. Questo libro che cosa può dare in più allo spettatore, al lettore interessato? Il libro recita in copertina Sport in TV, storia e storie, dalle origini a oggi, è proprio un libro su due livelli, c'è una storia molto rigorosa, molto ben documentata, condotta da Pino Frido, che è l'autore della maggior parte del libro, che ricostruisce proprio questo rapporto fra sport e televisione dalla nascita a oggi, è stato aggiornato, il libro è uscito da qualche mese, è stato aggiornato proprio nelle ultime settimane. E poi ci sono le storie, che sono quelle che racconto io, che sono collegate alla storia, ovvero man mano che la storia propone personaggi o fatti particolari, ci sono dei miei interventi che nascono dal fatto di aver vissuto in prima persona alcune di quegli eventi raccontati per motivi televisivi o radiofonici, o di aver lavorato con tante di quelle persone che vengono citate. Ho avuto la fortuna tra radio e televisione di lavorare con tutti i più grandi, essendo su piazza dall'anno 1970. E quindi c'è questo doppio livello di lettura, e nell'ambito di queste storie, forse la più clamorosa per certi versi, perché una volta per tutte abbiamo ristabilito una verità storica, è quella che riguarda Niccolò Carosio. Non so se adesso sia il caso di raccontarla, ricostruirla, perché non... Non siamo nella sintesi di cui è dotato, possiamo. È chiaro che parlare oggi a dei giovani di Niccolò Carosio è difficile, perché non sanno più nemmeno chi fosse, arrivano forse al massimo a Nando Martellini. Carosio è stato, eccolo qui, Niccolò è stato l'inventore del nostro mestiere, semplicemente perché prima di lui non esistevano né i radiocronisti, meno che mai i telecronisti, perché lui ha cominciato negli anni 30, 20, eccetera, quindi la televisione non se ne parlava. Lui ha letteralmente inventato il mestiere, non starò a dire le modalità, che però racconto nel libro. E ha raccontato, ad esempio, alla radio, lavorando, come si vede dalla foto, a bordo campo, con dei pastrani infagottato con il gelo, non dobbiamo immaginare la postazione, no, no, siamo agli albori, lavorava con i piedi nel fango a bordo campo, ha raccontato i mondiali del 34, le olimpiadi del 36, i mondiali del 38, per la radio, per l'EIAR, ovvero la radio del periodo fascista. Però tra l'altro nel periodo in cui la radio si affermava come mezzo, anche perché il regime voleva che si affermasse, perché era evidentemente un tramite formidabile per i suoi messaggi. Sappiamo quello che è successo in Germania. Ecco, e voglio dire, la radio, ci fu un modello di radio che fu un po' per la storia della comunicazione, quello che è stato la Fiat 600 per la motorizzazione italiana. La radio balilla o radio rurale erano due modelli, furono costruiti, non erano nemmeno tanto economiche, ma insomma furono finalmente alla portata di molti e il regime era ben contento, perché avendo una radio in tante case faceva arrivare i suoi messaggi in maniera molto più immediata che giornali, insomma in tempi in cui la comunicazione era molto lenta. Bene, cerchiamo di sbrigarci perché poi la cosa mi appassiona e magari mi dilungo troppo. Ma cosa accade a Niccolò Carosio, il padre di tutti noi, che dopo aver raccontato tutto questo, continua la sua carriera, passa in televisione, è il vero cantore, non so, di tutta l'epoca dell'Inter, in Coppa dei Campioni negli anni 60, del Milano di Wembley, di tutto, arriva ai mondiali nel 1970 in Messico e lui è a un anno dalla pensione, ha un carattere non facile, è sempre un po' in frizione con la Rai e a un certo punto dopo la partita Italia-Israele viene di colpo esautorato, estromesso dalle telecroniche delle partite dell'Italia e sostituito da Nando Bartellini che all'epoca era il numero due. Perché? Perché? A chiederlo ancora oggi al direttore generale dell'epoca, Bernabé, che è vivo e lotta insieme a noi, è molto bene perché è presidente di Luxvide e produce delle fiction di alto livello, come io ho fatto, gli ho telefonato, lui sostiene ancora che fu un normale avvicendamento professorale, non è vero. La realtà è che questo è un caso di scuola per la comunicazione, per la confusione che si fa. Carosio fu accusato di aver dato del negro, o peggio, del negraccio, al guardalino etiope della partita Italia-Israele che aveva annullato, arriva un gol all'apparenza regolare. Noi abbiamo risentito secondo per secondo la telecronica, non c'è nulla di tutto questo. Come riporto nel libro, il massimo è un etiope detto con un pizzico di disappunto. Mi viene naturale. Da com'è nato allora questo? Ecco, è lì che abbiamo scoperto, perché lavorando, lavorando, abbiamo visto che c'era una lettera al messaggero, pochi giorni dopo quella partita, di un ingegnere di io presidente a Roma che si lamentava di espressioni dette alla radio, in cui qualcuno aveva detto il negus si è vendicato. Negli stessi giorni un tale chiamato Carmelo Bene, era Carmelo Bene ma non era così famoso all'epoca, scrive all'unità una lettera di contenuto analogo, dicendo che alla radio c'era stato un dopo partita in cui si erano usati dei termini assolutamente inaccettabili. Contemporaneamente un altro signore chiamato Enzo Tortora, che era stato estromesso dalla RAI di Bernabèi per un'intervista, oggi dovrebbero cacciare tutti se per un'intervista del genere cacciarono Tortora, e che quindi aveva il dente apprenato con Bernabèi, fa un corsivo di grandissima eleganza per il resto del Carlino, in cui invita il direttore Bernabèi, allora a bandire dagli schermi della RAI anche l'Aida, perché nel coro dell'Aida si dice l'etio pelle porta, chiaramente era un paradosso ironico per pungere Bernabèi. Che diavolo era successo? Ci siamo arrivati perché con Frisoli, attivissimo da questo punto di vista, abbiamo recuperato l'audio originale, ce l'ho di là nel mio iPad memorizzato, del dopo partita alla radio. Bene, nel dopo partita Antonio Ghirelli, direttore del Corriere dello Sport, uomo di sinistra quant'altri mai, portavoce di Pertini successivamente al Quirinale, se ne uscì con una battuta dicendo se volessimo scherzare diremmo oggi che il Negus si è vendicato. Ho l'audio eh. Cioè era lui, è stato lui. È stato lui. Evidentemente è stata fatta una confusione totale, come spesso accade. Le sarà capitato alle volte di dire... Ma bastava risentirlo quello no? Questo è un mistero. Che poi fra Carosi e la RAI non ci fosse un rapporto molto disteso. Lei dice che fu colto l'attimo. Che lui, un po' di insofferenza verso questo guardaline l'avesse mostrata, era vero. Che questo guardaline fosse un po' sospetto, l'abbiamo appurato anche quello perché gli svedesi lo tartassarono di critiche perché aveva arbitrato la partita di Svezia con Israele favorendo smaccatamente Israele. E poi si scoprì che prima dei mondiali Israele era andato ad allenarsi in altura in Etiopia. E chi c'era lì in quell'albergo? Il guardaline Etiopia. Il nostro amico. Altro non possiamo definire, altrimenti poi incorriamo. Si chiamava Tarreken. Sei un Tarreken, guardaline Etiopia. Insomma ha ridato, forse nessuno ne aveva dubitato, giusta dignità di onore a uno dei più grandi radio telecronisti. Però ce n'è un'altra che merita in qualche modo di essere raccontata, proprio perché stiamo vivendo questa situazione di diritti TV, delle partite a tutte le ore, della diretta negata per Italia e Inghilterra. Sì, anche quella è una bella storia. Quella è una primizia che trovate nel libro, però la possiamo definire un attimo. Stiamo parlando di una partita di qualificazione ai mondiali del 78 in Argentina. Ecco qui, qui vediamo. Eccola qui. Tra l'altro c'era l'unità, ero in curva, giovane 16 anni. Io ero a fare le interviste per il giornale radio, era stato assunto da pochi mesi il giornale radio, dopo sei anni di carta stampata. E non ricordavo più nemmeno io che quella partita, come si vede dal cielo, fu giocata di pomeriggio, in un mercoledì di novembre a Roma, lo stadio olimpico non è ancora coperto perché siamo nel Milano. Ma pieno, ma pieno, rigoglioso. Il governo vietò la trasmissione in diretta di questa partita perché in un periodo, oh che stranezza, di crisi economica, pare che stiamo parlando di oggi, ma comunque, temeva che la trasmissione in diretta di una partita così importante, Italia e Inghilterra, qualificazione mondiale, un tempo per qualificarsi ai mondiali bisognava battere l'Inghilterra, non il Montenegro, il Faro, come accade adesso, questo avrebbe portato un altissimo tasso di assenteismo negli uffici e nelle fabbriche, per cui impose alla televisione di trasmettere la partita indifferita, mentre la radio la trasmise in diretta e forse per questo non mi ricordavo perché io lavoravo alla radio e noi facevamo la diretta. Domanda, ma non si poteva giocare di sera? Mettevamo tutti d'accordo. Evidentemente questo ci dà il senso di come si hanno cambiate le cose non sempre bene. All'epoca si riteneva che in novembre a Roma non si dovesse giocare di sera perché insomma fa freddo eccetera. Adesso si gioca a gennaio a Udine, in notturna, perché ci sono le esigenze televisive. Sì, infatti, e poi si gioca ad agosto alle tre e si gioca a gennaio. Allora, io vado un attimo da Elena Giacominse a qualche domanda anche da parte dei suoi telespettatori nel senso di coloro che sono su Facebook, altrimenti io proseguo con Massimo. Assolutamente, c'è una domanda ed è questa, la riporto fedelmente. Come cambierebbe il suo lavoro se lei fosse un giornalista di sport all'estero? Cioè se dovesse scrivere di Premier League, di Bundesliga o di Liga? Noi teniamo molto a questi raffronti. No, io credo che cambierebbe non tanto nel senso di dover scrivere di Premier League, di Bundesliga, o che quanto, nel senso di dover scrivere, scrivere come mi piacerebbe, di più sport. Perché in questi paesi, se si è Inghilterra, la Germania, la Francia, c'è una cultura polisportiva molto diversa da noi. In Inghilterra il rugby, e anche in Francia, non è meno importante del calcio. Il tennis, quando c'è Roland Garros a Parigi, è un delirio, cioè la razione si appassiona. Ma in Inghilterra gli sport equestri, il cricket, per esempio, o il golf, che a me tanto piace, sono seguitissimi. E i giornalisti difficilmente sono giornalisti soltanto di calcio, anche perché c'è la stagionalità, eccetera. Ecco, questo mi piacerebbe. Mi piacerebbe essere all'estero per poter dilungarmi di più su tanti altri sport. Poi è impossibile, anche per quello che ha citato prima, quando parlava addirittura di Milani Inter e Juventus, neanche di sport diversi. Se lei apre con Atletica Leggera, come una volta era la Domenica Sportiva senza concorrenza, probabilmente. C'era questa cosa sullo sci, quando vinceva Teni, che rendeva quel servizio un servizio veramente di tutti gli sport e degli eventi. Adesso forse... È risretta praticamente al calcio. Cioè, bene, prendo la mia parte di responsabilità, ma se vuoi combattere la battaglia degli ascolti, non hai scelta. Una collega che mi andai a fare un servizio in Inghilterra per intervistare, non mi ricordo più chi, di ritorno mi portò la scaletta, era stata a montare alla televisione inglese, la scaletta di quella che è la Domenica Sportiva Calcistica inglese. Era bellissimo, perché c'era... era una scaletta molto semplice. C'era servizio, non so, Aston Villa a Chelsea, dichiarazione di Shearer, che è l'opinionista loro. Poi, servizio Manchester-Blackpool, dichiarazione di Shearer, cioè, una serie di servizi, qualche commento insieme con le giornalisti, basta. Niente di più, cioè, lo sappiamo, il calcio in Inghilterra lo dicono tutti quelli che ci hanno giocato, ma anche negli altri paesi, è vissuto in maniera completamente diversa, la partita finisce al novantesimo. Comunque con grande identificazione e passione, forse anche più esagerata. Sì, vanno allo stadio con la maglia, la sciarca, non vanno con la giacra. Però non si sa perché si fermano, o anche perché l'hanno voluti fermare. È un po', l'hanno saputo. L'hanno saputo fermare. Stiamo quasi arrivando, però io ho due domande ancora, poi mi dice il nostro collaboratore, quando siamo arrivati al punto. Come vive, proprio in questo ambiente sempre un po' sospettoso del calcio, il conduttore, la sua imparzialità nel presentarsi in una trasmissione sportiva? E come la rende sempre? Perché tutti noi possiamo essere tifosi, ma molti, la maggior parte poi alla fine se lo dimenticano, è bene così nel mestiere. Però c'è sempre la paura che qualcuno ti voglia identificare, ti voglia richettare. Ecco, come si combatte questo? Allora, si combatte ma non basta, perché in Italia non basta più niente. Si combatte, ma non basta cercando veramente di non calarsi mai. È chiaro che ho una passione anch'io per una squadra di calcio, ma di non ragionare mai da tifoso. Il ragionare da tifoso non significa soltanto sostenere quella squadra con argomenti. Significa alle volte anche criticarla in maniera esagerata perché ragioni da tifoso. Come no? Ma questo non basta in Italia. A me fa piacere incontrare tanto spesso, come dicevo, conduco una vita da osservatore romano a Milano. Capito tanto spesso di incontrare gente a Milano, eccetera, e mi chiedo sempre, ma lei è milanista o giuventino? Dico, no, nessuno dei due. C'è la giornata dell'Inter? No, dico, a me non è l'Inter. Cioè, questo significa che evidentemente nell'arco degli anni non ho dato... Meglio? Eh, molto meglio. Però, però, negli ultimi anni poi esce fuori. Adesso lo posso dire serenamente, anche perché poi ormai in trasmissione televisiva non ne sto conducendo più. Io tifo per la Roma. Nessun problema. È andato via Mario Pennacchia. È andato via Mario Pennacchia, lo possiamo dire. Grazie della sua franchezza. Adesso, siccome poi questa cosa un po' si è saputa, automaticamente, specialmente nell'ampio mondo della rete, qualsiasi cosa tu dica, lo dici perché sei della Roma. Ma allora, io per esempio ho un mio blog sul Corriere.it, sul sito del Corriere della Sera, e ho fatto di recente un pezzo accomunando i due clamorosi errori dal discritto nella stessa giornata di Miccoli e di Zarate, dicendo, ma, specie per Zarate, quel rigore valeva milioni. Meno male. Perché poi gli insulti che ho ricevuto, perché dicono, perché lei scrive da romanista, ma che c'entra? No, no, ha detto una grande realtà. Guardi, ha detto una grande realtà. Se avessi dovuto scrivere da romanista sarei stato contento, guarda che bel rigore che ha buttato via. Ma hai detto una grande realtà, che però è stata sottaciuta, perché il giorno dopo hanno fatto il referendum su Reia sì e no. Eh. Questa...